Ciao a tutti, sono Ludovico Macferri e studio Ingegneria Energetica al Politecnico di Torino. Quest'anno frequento il corso di rivoluzione digitale e insieme ai miei compagni scriverò un blog chiamato Tecnologic Out. Io mi occuperò della tecnologia presente nelle auto e in particolar modo del funzionamento dell'ABS. Seguiteci numerosi! Grazie a tutti!